Paul Antonio, vicepresidente dell'Olimpia agnonese, la prima molisana a riorganizzarsi per questa stagione 2018-2019. Siamo sul campo del Civitelle, quindi possiamo dire che è ufficialmente iniziata questa stagione con tanto entusiasmo da parte della società, da parte anche comunque della comunità agnonese. Siamo partiti non in anticipo ma rispettando i tempi, qualche errore commesso nel passato ci è stato utile per non ricaderci e di conseguenza abbiamo orientato sia per quanto riguarda la direzione tecnica che quando riguarda l'assetto societario in netto anticipo e i risultati si stanno vedendo. Diciamo che quindi è stato un inizio d'anno comunque rivoluzionario per quanto riguarda l'Agnone inteso tutto il punto di vista tecnico e inteso anche comunque come la struttura che comunque sarà soggetta a ristrutturazione per voi. Sì è vero, diciamo che la logistica è la parte più importante nella gestione della squadra e questo ha permesso innanzitutto alla società e alla famiglia Golaizzo di ragionarci su e di pensare e orientarci a questo progetto della Casa Olimpia che ha trovato favorevole anche l'amministrazione comunale dando quella risposta che effettivamente noi andavamo cercando, cioè avere un immobile da poter utilizzare ai fini anche dell'amalgama tra i giocatori che ci impone ragazzi dal 2000, del 99, quindi anche socializzando tra di loro, tenerli tutti insieme in un'unica struttura penso che sia un aspetto molto molto positivo. Infatti anche quest'anno sotto il punto di vista tecnico l'Agnone comunque punta tanto sui giovani, sarà sempre una squadra molto giovane con qualche innesto di esperienza. Sì è vero, il Presidente si è mosso bene, si è circondato di persone competenti nel campo della Serie D e ha permesso incontri fatti ripetuti di studiare pezzo per pezzo e di mettere a disposizione del tecnico una rosa, noi la riteniamo alquanto illusiva dal punto di vista delle risposte che deve dare perché ci crediamo, sono giovani promettenti, giovani che hanno già delle esperienze nel campo della Serie D, a questi sono stati associati anche dei ragazzi promettenti e quindi le aspettative della tifoseria ma le aspettative della società ci auguriamo vengano rispettate.